ok no quella delle mele l'ho fatta io adesso poco fa diciamo le mele allora andiamo eh ok ci serve il pollo crudo ragazzi il pollo crudo il pollo crudo come prendiamo del pollo crudo avanti non facciamo un po' i barba papà e facciamo più barbara shaysan lo sai che hai ragione per si barbara shaysan tipo gli stonati personaggi del mondo non ti devi seccare non mi fa prendere il pollo sbaglio qua si può scendere può essere pure che il pollo è qua giù esatto qua sotto è pieno di polli vedete dove si può scendere la dove è questa del pollo è pieno di polli io ho visto che era chiuso non era chiuso è più aperto di te perché io sono aperto in un certo senso ah no sono un coglione c'era il cancelletto è pieno di polli tu fai polli che io controllo la fornace è tre smeraldi lo sapevo chi si fanno vuole un po' più di un pollo ma per uscire tutti sono questi che mi fanno laggare sti pezzi di merda io senza una spada sono riusciti dopo 30 anni e scappano pure quindi è il tuo pezzo quello che sto facendo ah guarda i pigli che salgono piano piano pure un maiale cantano ok andiamo al tizio perché di tizio Dani 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 non avrai migliore Dani non avrai non avrai mica mangiato un pollo Dani no perché mi ha felina se no allora tizio ok il sempronio tieni tieni tutti i polli che vuoi mi ha dato tre leve addirittura ma dai butta solo una le due e vendere booo si è aperto vabbè ho completato tutte le missioni avrai dopo la missione quindi dopo che hai dato la missione che è successo abbiamo finito la mamma se te piacerebbe io devo andare però poco vabbè stacchiamo qua per ora no dopo aver fatto questo già c'era sì ecco il tizio il tizio che è vasto e adesso che dobbiamo fare abbiamo fatto tutto Ari che dice là oh proviamo no allora aspetta 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 dice il mercato nero non è più controllato sì giusto bisogna controllare il mercato nero si è aperto si è aperto si è aperto qua c'è questo vende le armature io ce lo vissi fare no, ne me li compro o dove siete? oi oi qua, dietro di te perché mi dovrebbe dare della terra questo tico 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 ta no, le mie mercato dei sims 3 clicchier ma che cazzo 6666 che cazzo ci vede che è un mercato nero free torrents oh mio dio questo vuole 64 osmeraldi per una merdata di cosa lady gaga 3 ma lol 50 shades mi sa che devi comprare questo che mi sa il continuo questo e si aprirà qua commento allora 50 shades of grey metti push non riesco a leggere lo prendo 50 shades non lo non lo prendo non lo prendo non lo prendo non lo prendo dai ragazzi questo libro è malefico perché vediamo che vuol dire che vuol dire tanto questo è lo smerardo magari chi lo compra la vede allora aspetta che cosa dice voglio so che cambia impressionante ma perché solo io non la vedo che cambia perché è quella in bianco non si capisce niente comunque quasi all'andare venite ecco ragazzi un secondo di pausa fatti spada ok eccoci tornati dopo una brevissima pausa vi diciamo che ali se ne deve andare quindi io sono un fatti spiderman per ora sappiamo la mappella ricominciamo il più presto possibile sono spiderman ma sta zitta va a cagare ciao a tutti mi raccomando mettete mi piace video ciao a tutti ciao 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 ciao